Quali sono le mete più gettonate di quest'anno? Allora, per le vacanze natalizie sicuramente sono le capitali europee, contrariamente a quanto uno pensa Londra e Parigi, quindi la paura è un po' svanita, New York, senza dubbio, e tutta la zona dei Caraibi, quindi Cuba, Santo Domingo, Messico, è molto molto richiesto. Principalmente la clientela punta o a scegliere destinazioni come la montagna, principalmente le Dolomiti o le Alpi, per godersi comunque il paesaggio o cogliere l'occasione per sciare, altrimenti si va sempre su un classico, quindi la vacanza al caldo, come le Maldive, le Seychelles, oppure gli Emirati Arabi, Oman e Dubai, principalmente perché così la gente fa un po' di sbrinamento durante le vacanze di Natale. Montagna qualcuno la richiede, chiaramente la montagna però magari non si promuove molto nelle agenzie viaggi, vorrei aggiungere Tailandia, tanta Tailandia, quest'anno va alla grande, come mare, tour, mix di esperienze. Quindi mete esotiche più che italiane? Assolutamente sì, generalmente la montagna ormai è diventato come un fai da te, pertanto tante persone si arrangiano nel prenotare le strutture anche in base alle proprie esigenze, ai propri giorni, molti cercano le due o tre notti su capodanno che non è mai facile trovare, di conseguenza puntano diciamo più alla gestione personale della vacanza. Mentre tra le mete esotiche, quella che va più di moda quest'anno qual è? Dalle prenotazioni fatte qui in agenzia, solitamente Santo Domingo, Messico e qualcosa anche su Zanzibar per la maggiore, sono le tre mete che si sono confermate di più. Si risente della crisi nelle vacanze natalizie? Un po' sì rispetto all'anno scorso perché comunque le persone tendono a rimanere più a casa e far dei giri molto più limitati all'interno comunque dello spazio limitrofo alla propria città perché comunque le spese diventano abbastanza impegnative quando si deve andare all'estero. C'è qualche nuova meta in arrivo, qualche nuova meta che prima non si considerava? C'è entrata una nuova meta che speriamo possa piacere che è zona mare sempre in lungo raggio che è il Vietnam come nuova zona di mare, magari anche da unire al tour e questo con un volo charter quindi c'è questa nuova meta. Un pochino sta riprendendo anche, che non è una nuova meta, ma sta riprendendo il Mar Rosso che di ciò siamo contenti, insomma, che la gente abbia anche un po' più di fiducia. Grazie mille.